Partendo da Villa San Michele, vi portiamo a conoscere mastri artigiani nel dietro le quinte del loro atelier. Lavoriamo dai campi di mio nonno l'argento dalla A alla Z. Se riesci ad entrare in contatto col metallo e farti guidare anche da lui, crei un'emozione. La scatola delle meraviglie è un pretesto per scrivere una storia, però a scriverla con le mani.